Terremoto bancario. Anche in Italia 10.000 filiali sparite e quasi 50.000 bancari a spasso, senza dimenticare oltre 260 banche che non esistono più. Se torniamo indietro con la memoria, in questi ultimi 10 anni si è verificata un'everia ecatombe per quanto concerne quel settore bancario. Penso che sia il peggiore in cui lavorare adesso ed anche per i prossimi anni. Come potete vedere l'euro digitale farà il resto. Per quale motivo in Italia, ad esempio, abbiamo avuto grandissimi scandali finanziari di matrice bancaria? Io posso tranquillamente citare le casistiche della mia regione, Veneto Banca o Banca Popolare di Vicenza, che oggi non esistono più, ma fino a 10 anni fa erano banche che nel mio territorio erano osannate e considerate oltretutto anche i persicuri. Una delle tante motivazioni che vengono indicate a questa fase di rarefazione degli attori di mercato è imputabile alla gerontocrazia, ossia che i posti di comando, l'attività decisionale è sempre stata in mano a persone troppo anziane, poco connesse con la tecnologia e nello specifico se prendiamo appunto casistiche che ormai hanno fatto storia anche per quanto concerne il nostro paese. Andiamo ad analizzare i consigli di amministrazione di quelle banche che oggi non esistono più, scopriremo che lì dentro non c'erano banchieri, ma nella maggior parte dei casi yes men legati a un certo tipo di establishment bancario in cui la banca veniva gestita ed utilizzata come se fosse un feudo. Alla fine il mercato ha presentato il conto, il mercato per quanto possa essere denigrato spesso produce proprio efficienza tra gli operatori, tra gli attori di mercato e come potete vedere l'euro digitale farà il resto. Qui c'è anche un altro redazionale che richiama questo pensiero, banche nel prossimo futuro non ci saranno più filiali. Se penso proprio ai modelli di business che sono stati adottati fino a dieci anni fa, proprio da queste stesse banche che non esistono più oggi, erano incentrati sulla crescita dimensionale attraverso acquisizioni o aperture di filiali fisiche, senza rendersi conto che nel frattempo il mondo stava andando in tutt'altro tipo di direzione. Questo già lo si percepiva tra il 2007, 2008 e 2009. Quindi durante quegli anni, quel triennio, ci sono state tantissime realtà bancarie che hanno sempre concepito la loro mission aziendale, crescita dimensionale, non solo acquisizione degli attivi, ma proprio anche acquisizione di filiali da parte di altri, mentre oggi c'è la gara nel dar via la filiale cosiddetta fisica, perché diventerà un centro di costo che non produrrà più grande marginalità nel tempo, proprio perché l'utenza non solo si sta adeguando quelli che sono i grandi cambiamenti nella fruizione dei servizi bancari, ma sta cambiando anche di età demograficamente parlando. Voi provate a parlare con un ragazzo di 20-25 anni e vediamo dove va a aprire il conto corrente online, se va su una filiale tradizionale della banca XYZ oppure utilizza i servizi di ultima generazione di alcune banche online molto conosciute non solo in Italia, ma addirittura anche fuori dai confini italiani e considerate che da qui a qualche anno dovremmo iniziare a ragionare tutti, non io sono italiano, apro il conto di appoggio bancario su una banca italiana, ma io sono europeo e apro il conto di appoggio bancario per lavorare, per gestire tutta la domiciliazione di quelle che sono le mie debense con una banca online europea. Questo è il prossimo passaggio e non dimentichiamoci mai che dobbiamo aggiungerci anche il carico dell'euro digitale, questo che deve far paura a chi investe in crypto asset, non tanto i miner, la Cina che ormai questi sono stati sdoganati e rappresentano una icona del passato. No, su chi può far veramente male l'euro digitale, perché già lo stiamo vedendo in Cina, tutto quello che è accaduto in questi ultimi due settimane non è stata altro che l'implementazione di un piano da parte della Cina per aumentare a dismisura la fruizione e la fruibilità dello One digitale, per questo motivo che sono stati bannati non solo determinati servizi di crypto investment, crypto trading, crypto banking, ma anche addirittura gli influencer, vale a dire tutti coloro i quali incitavano, spingevano a iniziare a utilizzare i crypto asset o i crypto currency in sostituzione di quelli che sono le fiat currency a controllo governativo. Ebbene, l'euro digitale dovrebbe lentamente arrivare a fare quello che sta facendo lo One digitale, più avanti ci sarà anche il dollaro digitale, noi purtroppo come europei abbiamo un ritardo in questo momento tra i tre, probabilmente sui tre anni, prima di noi come europei ci dovrebbe essere l'implementazione del dollaro digitale, quello a quel punto rappresenterà la fine veramente dell'industria bancaria, quella cosiddetta tradizionale, ordinaria, legata al territorio e così via. Tante banche oggi vivono ancora con lo slogan la banca del territorio, ma in un mondo che è sempre più globale il concetto di territorialità, almeno per quanto riguarda il settore bancario, dovrà essere profondamente ridimensionato proprio perché tantissimi mestieri, tantissime professioni, tantissimi lavori oggi si sono trasformati in nomadi digitali, per cui io oggi, che ne so, lavoro in Spagna, l'anno venturo lavorerò in Svezia, l'anno venturo vado negli Stati Uniti, poi mi sposto in Asia e così via discorrendo. Sono pochissime le attività o le professioni che si svolgono ancora in modalità esclusivamente radicata ad una location. Pensiamo poi a quello che è accaduto con la rivoluzione dello smart working post pandemia. Ci sono, e si è anche stato dimostrato, tantissime, ci sono tantissime milioni di persone che non sono più tanto disposte a ritornare al posto di lavoro convenzionale per tutte le conseguenze che abbiamo in passato anche analizzato. Oltretutto il fatto che il settore bancario sia in piena trasformazione fa comprendere anche come determinati tipi di investimenti immobiliari, io ne ho parlato anche lo scorso anno, siano ormai modelli da obsoleti, anacronistici, da dimenticare. Ho citato in più casi l'esempio di quel mio ex cliente investitore che aveva come immobiliarista avuto l'idea nel tempo di costruirsi una rendita attraverso che cosa? L'acquisto di immobili da affittare a piano terra proprio a banche che erano considerate ottimi pagatori e benedio di pochi mesi. Questo tipo di rendita ed anche patrimonio è stato completamente disatteso perché quegli immobili a pieno terra non li vuole più nessuno ma neanche, ma non solo in termini di affitto, ma neanche se provasse a venderli troverebbe un acquirente proprio perché nel frattempo sono andate a cambiarsi tutte delle logiche di fruizione e anche delle metodiche di consumo. Pensiamo solo come è stata stravolta in poco tempo tutta la nostra vita per quanto concerne i servizi di consumo, piattaforme, marketplace, interazione sociale e così via discorrendo. Vi lascio i link per andarvi a approfondire poi quello che è l'outlook e le conseguenze che dovrà produrre non solo all'industria bancaria ma poi anche i cripto investimenti a tutta la criptosfera, l'arrivo e l'adozione poi del cosiddetto euro digitale che state certi porrà fine a tanti cripto progetti, non tutti ma tanti ne pagheranno le conseguenze proprio perché verrà calato dall'asso un grande strumento di controllo finanziario e proprio come ha fatto la Cina anche le autorità sovranazionali europee potranno contare con tutti gli strumenti di controllo e di coercizione per limitare l'adozione, la diffusione, la fruizione di altri progetti cripto che magari potrebbero essere concorrenti proprio all'euro digitale.